io sono un ciclo il papà oggi si è perso col navigatore per far due commissioni sono arrabbiato sono stufo adesso mi sfogo perché non ne posso più ma è possibile che tutte le volte che il papà dice andiamo fuori a cena io devo stare sotto il tavolo ma cosa mi inviti a cena a fare hai bisogno degli spettatori mentre mangi a a presto linda monta su a 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 andiamo a vedere gli ultimi panorami prima di raggiungere la mamma sono tre giorni che vedo panorami anziché a veder la mamma crocconto cosa mi fai spaventare non vedi che sono quelli che controllo se ci sono i croccodini ma sono crudento non non perché non il non 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 il Grazie a tutti. Grazie a tutti. La barca? No! Io ho capito che avremmo preso la barca, Chico. Non ce dovevo pedalare. È una barca, non vedi? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.